amiche amici benvenuti a questa festa la serata di apertura per quanto concerne l'anno 2009-2010 qui all'Emi Sax Music tanti artisti tante amiche tanti amici una festa incredibile e il finale la ciliagina sulla torta con il DJ René Vu con la musica degli anni 70-80 quindi ammiriamo e vediamo alcuni momenti di questa serata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Vorreste partire con loro? Allora se siete pronti a partire e bene amiche e amici andiamo a Chicago Grazie a tutti 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 quindi ad Angela Jane un ringraziamento particolare per la preziosa collaborazione Emi Sucks Music wow evviva ecco qua voilà signore e signori Emi Sucks Music e la zapata Emi Sucks Music Non B damn Non B damn UnOOD O好吧 Ma sua n墧 Di KS Emi Sske Un ringraziamento De primavera A poll Emi Sucks manifests No, no, no Amore con mais No 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 Amore con mais No no Que altro è vivido Mi amavo groggy Tunni stati , diciamo e veniamo e non il buonco di me No, 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 no! La buona, no, 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 no! No, 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 no! Grazie a tutti. Grazie a tutti.